Musica Oggi abbiamo effettuato una dissezione del cuore, un'esperienza veramente singolare perché i ragazzi per la prima volta hanno un contatto diretto con l'organo, un'anatomia un po' complessa che da raffigurazioni, anche da immagini virtuali o a realtà aumentata non è facilissima da comprendere, invece il contatto diretto con un cuore di maiale che sappiamo essere molto simile a quello dell'uomo può rendere protagonista direttamente lo studente e riuscire di conseguenza a comprendere le varie connessioni. La consistenza di una valvola cardiaca, delle corde tendine, il diverso espressimento dei ventricoli, sono tutte cose che direttamente con mano possono essere comprese dallo studente. Naturalmente hanno partecipato a questa esperienza le mie collaboratrici, una dottoressa, un medico, mia ex allieva Camilla Ciani, una studentessa molto giovane, sempre di medicina, Martina Ceraudo e hanno così scoperto anche la vicepreside direttamente questo nuovo modo di conoscere, di comprendere l'anatomia. Molte volte i ragazzi lo chiedono di avere la possibilità di un contatto diretto, noi abbiamo creato queste condizioni, immagino con grande entusiasmo come possiamo vedere da tutti quanti gli studenti. Grazie.